Con il nuovo anno ci portiamo dietro vecchi problemi, la questione dei trasporti marittimi. Abbiamo chiuso un anno con una polemica sulle mancate corse che non sono partite a Natale della Caremar. Nicola Lamonica ha deciso di mettere penna su carta, no professore? È chiaro che dobbiamo agire in modo diverso e unitario all'idea di quelle che sono le considerazioni sull'associazione, sull'outmare e sul ruolo che ha avuto in questi anni. È necessario porre un punto fermo, decidere se siamo dalla parte dei cittadini oppure dalla parte delle istituzioni che sono latitanti. E quindi che cosa hai prodotto in queste ore? E quindi un richiamo generale, un richiamo che va anche alla Procura della Repubblica. Va alla Procura della Repubblica perché affossa provvedimenti che invece avrebbero potuto risollevare i problemi, sollevare i problemi e risolvere i problemi. Ci troviamo di fronte a una inadempienza denunciata, oltretutto dal Garante recentemente e non solo recentemente, una inadempienza che vorremmo che si superasse con carte e con accorgimenti burocratici. Vogliamo invece che il Presidente De Luca si assuma la responsabilità del trasporto marittimo e dia giustizia ai procidani e dia serenità a tutti i lavoratori pentolari e agli isolani. Grazie. Questo vogliamo. E per fare questo stasera, oggi, dopo la conferenza stampa, daremo sfogo a un incontro, spero collettivo, con la Guardia di Finanza a cui affideremo un nostro messaggio al Procuratore della Repubblica.